battle royale avete gas in avvicinamento andate alla zona sicura l'obiettivo principale è farli tutti fuori mi hanno colpito un team nemico vi dà la caccia occhi aperti uab nemico in volo nemico in discesa nell'area operativa mi stanno sparando punto di raduno definito no 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 Sì. 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 Sfittato, nemico in arrivo. Sfittato. Sfittato, nemico in arrivo. Sfittato, nemico in arrivo. Sfittato. Operatore ostile. Al riparo! Soldato nemico in arrivo! 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 Punto tiraduno definito! WAP nemico in volo! Soldato nemico in arrivo! 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 Mi sparano! Sono nel loro mirino! Siamo colpito! Non perdi più sangue. Richiamoci la giù. Come non detto. Mi puntano! Tiro una granata. Siamo nella zona sicura. Occhio ai nemici. Soldato nemico in arrivo. Soldato nemico in arrivo. Siamo in attrima. Mi puntano! Gassi in arrivo, nuova zona sicura contrassegnata! Mi sparano! Gassi in arrivo! Mi spavano! Gassi in arrivo, nuova zona sicura! Mi sparano! Granata lanciata! Bersaglio. 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 Ci sono. Ci sono. Arriva il gatto. Vedo il tiro. Movimenti. Mi attaccano. No! Gassi in arrivo. Zona sicura riposizionata. C'è una mitraglietta da recuperare. Soldato nemico in arrivo. Ci sono nemici. Avete del gas in arrivo. No! Avete del gas in arrivo. Avete del gas in arrivo. E' un colpino vivo! Contatto! Contatto di fronte! Restano meno di 10 nemici! Io mi metto in giro! Stazione medica qui! Stazione medica maledata! Stazione medica qui! Vedo un tiratore! La zona sicura è lontana! In marcia! Tranquillo! Ne hanno fatti meno di 10 nemici! Ci hanno schiazzato, ma pareggeremo in tutti! Ne rimangono 5! Concentrati! Concentrati! Alle persone con il perno! On attenti! Concentrati! uto!